È iniziato il 2020 ed è ripartita con immutato vigore l'azione dei comitati sul territorio in difesa della sanità pubblica. Dopo la manifestazione a Roma, fatto sapere Emilio Izzo, portavoce del comitato in seno al problema, non ci siamo fermati e vogliamo tenere alta l'attenzione sul tema. Nella capitale è stato aperto un tavolo permanente e a fine mese saremo di nuovo al Ministero per la Salute per riprendere il discorso come concordato il 16 dicembre. Domani pomeriggio alle 16 una delegazione del comitato sarà a Campobasso ricevuta alla direzione generale dell'ASREM da Maria Virginia Scafarto. Il comitato in seno al problema chiede di avere risposte sui provvedimenti di chiusura del centro di senologia del Veneziale di Isernia, ma anche ha specificato testualmente Izzo su altre criticità dello stesso ospedale a partire da neurofisiopatologia, oncologia, emodinamica e laboratorio analisi, nel quale, ha rimarcato fino a poco tempo fa, ci si attestava su 220 prelievi al giorno, mentre adesso a fatica e con grande disagio per i pazienti si riescono a farne soli 150. L'emergenza sanità pubblica resta sempre la più preoccupante e con quella ambientale, ha continuato Emilio Izzo, desta timori di tracollo da un momento all'altro. Il portavoce del comitato ha quindi annunciato due iniziative di piazza, una a Campobasso di nuovo davanti al Consiglio regionale per avere risposte certe sul futuro della sanità pubblica e degli ospedali, la seconda iniziativa nel Venafrano sul tema inquinamento per chiedere di fermare le missioni di quelli che definisce veleni. Intanto il governatore Toma, come annunciato a più riprese, ha sottolineato il suo impegno nei tavoli romani dopo le decisioni prese sul patto per la salute, sul tappeto la revisione del Balduzzi, su cui l'obiettivo è ottenere deroghe per garantire i servizi legati a un dipartimento di emergenza di secondo livello sul territorio, ma anche rivedere la procedura di nomina dei commissari entro sei mesi.